Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Noi, Voi e Gameplay Oggi siamo ancora qui su Destiny, ne approfitto per farvi vedere il titano, il titanus Oggi vi farò vedere la menzogna di Felwinter, che non è mai stata potenziata Normale, quindi ovviamente non sarà il top del top E pensavo di usare o l'aculio o il babbo a giocare L'aculio! Come potete notare, anche il titano non è negli occhi principali Perché ricordiamo essere lo stregone Vi ricordo che se volete unirvi siamo il clan Ultima Ombra Aggiungetemi su Xbox Live, sono TLK Che è questo qui, se lo vedete, lo vedete in alto dove sono andato al pulsore Questo, questa è la Mega Evertale Non è difficile, non è difficile TLK, L minuscola, la lista L minuscola Ma non è complicato Ma non è complicato Che figo! Mi dico una novità assoluta Il nostro Uber è diventato admin di una pagina Uber di Instagram Con ben 3.000 a seguarci Guardi, sapete qual è? Se lo seguite? Videogiocchi Mamita Eh, tua sorella Questa sarà come si chiama? Videogiocchi Mamita Videogiocchi Meme & Vita Ma mai? No, scusa Mamma mia! Videogiocchi & Meme! Un'altra ragazza che mi fa riesciare Lara, eh, guardate Questa è il lag, questo si chiama lag di casa Umbo Ragazzi, non mi stanno facendo rientrare! Oddio! Comunque, videogiochi Meme & Vita Videogiocchi & Meme & Vita Videogiocchi & Meme & Vita Che collabora con... Noi! Voi e gameplay No, e poi con... Noi voi e gameplay Vabbè Vabbè, Stefano ti dare una croca sopra la testa Seguitemi Vabbè 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 Qua c'è un altro? Dai Vabbè Cosa capisce anche pesante Questa qui ragazzi è la menzione di Firewinter Che non è potenziata Poi vi farò vedere i potenziamenti di questa magnifica arma Vabbè un giudino Ci credo veramente tanto in questa arma qui Quindi mi raccomando ragazzi, commentate se vi piace anche a voi Ecco, quello lì per dire, rotta il cazzo C'è capo Potete Azzio Eeeeee Super del titano Vediamo Bellina Ecco, la mia preferita è mai quella dello Stregone Ehm, chissà perchè, vero? Non lo so perchè Perchè molto probabilmente era Super dello Stregone Tira in altitutto da distanza No! Ma sono da più rende Ma forse perchè ho anche un'uble connessione a giro eh Non è possibile Non è possibile Non è possibile Guarda lì, dove l'ho tirato In palla capo Oddio aiuto C'è, il secondo è a 300 Si Puff Adesso muore perchè Ragazzi 10.000 mi piace eh Mi raccomando Ma cosa fare? Non so Ma cosa è? Non so Vorresti morire Ma adesso muore Ma guardiamo Cazzo no Eh ma accendiamo Ehm Voi dal sito della Bungie O dal telefono Come mi preferite Potete trasferire direttamente I Le armi I contenuti Tutto quello che avete Del vostro pg ad un altro Quindi dal guardiano all'altro In base a quello che vi gira il cluper A testa C'è qualcosa che non mi guarda Che non muore Infatti Dove mi dai a fare i danni? Ma ci penso io Perché mi sono proprio coglioni Eh Oh E qui? Dov'è? 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 Dove sei? Alzo, vieni Il nostro regone Il nostro regone? Il nostro regone che si è mi animato per la rianzo Dio Tra un po' mi arriverà Ehm Invelo al cazzotto dei lupi Chi di voi ha preso l'espansione di Destiny Chi di voi non ha preso Pirla Perchè sto morto In barattolamente Mori boia Che c'è? Ah Da Beh dai Mille di distanza da seconda Sono forti Eh ma E non sono nube che Troppo forti Ma non è vero Non è troppo forti Sono troppo forti Sono troppo forti Sono troppo forti Sono troppo forti Troppo forti Sto sparando alla cazza Vi esorto nuovamente a dirci Quali giochi potreste vedere Sul vostro canale preferito di me Oddio Eh vabbè Che il nostro Adesso si è secato Non è secato Non è secato Ah non è secato Sei proprio un abbo Col piano Bravissimo Pat pat Battire male Basta ciò roppi il cazzo Basta dai roppi il cazzo Basta dai roppi il cazzo Questo sfigato è Questo sfigato è Dai uno dietro l'altro Eh vai ancora Dai 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 Guardate Guardate che non arrivano Guarda i Pesponi Se volete giocare di squadra con uno proprio forte Ma più forte Innanzitutto Aggiungeteci Su Xbox Live E A Esatto Se volete venire Se non volete venire Fa niente Fa lo stesso Se ne frega Esatto Già Così Così sia Ah Vi devo far vedere una roba al volo Finita Si è finita Guardate la mia nave super bocchina Livelli uber Questo Dall'inventario Dall'inventario Fate così Guardate tutti i progressi Del vostro Guardiando Si del vostro guardiando Esatto Qui trovate tutto quello che vi interessa Qui trovate le taglie Se sono sbariate Prese a caso E siete a posto Quindi vi saluto ragazzi Ci vediamo alla prossima Con un nuovo video di Destiny Se vi interessa Se non vi interessa Ciao lo stesso E Fateci sapere se vi interessa Una delle intursioni Ciao a tutti Ciao a tutti ragazzi